Allora noi sappiamo che la Terra è una sfera rotante o meglio assimilabile a una sfera rotante e come tutti i corpi di giro rotanti è soggetta, cioè esistono diciamo sulla Terra delle forze che sono cosiddette apparenti, perché ogni volta che c'è un corpo rotante ci sono delle forze apparenti. La forza di Coriolis è una di queste, ma cosa vuol dire forza apparente? Perché apparente? Andiamo per ordine, innanzitutto cerchiamo di capire come i fisici definiscono le forze. La forza è data dal secondo principio della dinamica, la sua definizione, diciamo così la sua formula, in realtà sarebbe una formula vettoriale, comunque per semplificare la forza è la massa per l'accelerazione, ovvero la forza è un'azione esercitata su un corpo che determina una variazione di velocità. Perché una variazione di velocità? Perché A si definisce proprio come variazione di velocità sul tempo. Ad esempio se c'è un piatto fermo sul tavolo e lo avvicino a chi mi sta di fronte, il piatto era fermo, io esercito una forza, la sua massa m subisce una variazione di velocità, visto che era fermo e poi si muove e quindi possiamo identificare la forza proprio come la massa per la variazione della sua velocità. Può avvenire però che la situazione, o meglio il sistema fisico che sto considerando, preveda una variazione di velocità anche se non c'è una vera azione in senso stretto. Se volete è in quel caso che si parla di forze apparenti e se si manifestano nei sistemi di riferimento non inerziali, cioè quelli dove la velocità cambia o in intensità o in direzione verso, ricordiamo infatti che la velocità è un vettore. Quindi i sistemi di riferimento inerziali sono quelli in cui la velocità è costante o nulla, cioè stato di quiete o di moto rettilineo uniforme si dice tecnicamente, mentre i sistemi non inerziali è quelli in cui c'è una variazione di velocità. Quindi un treno che viaggia a velocità costante è un sistema inerziale, se il treno accelera o frena è un sistema non inerziale per dirla banalmente. In particolare, rispetto al nostro pianeta questa specie di sfera, elessoide o meglio ancora geoide di rotazione si dovrebbe dire, nel nostro pianeta dicevamo qualsiasi spostamento sulla sfera, cioè sul pianeta, specialmente quelli da nord a sud o viceversa, determina una variazione di velocità. Questo è un fenomeno inequivocabile che avviene considerando esclusivamente il moto di rotazione intorno al proprio asse della sfera terrestre e una di queste situazioni è proprio quella che genera la forza apparente di Coriolis. Ma come è possibile? Perché avviene, si manifesta questa forza apparente peraltro in modo speculare spostandosi da nord a sud e viceversa? E ci sono delle conseguenze pratiche? Dunque rispondiamo subito che le conseguenze ci sono e come? A partire dalla formazione di un vortice nel lavandino, anche se in realtà qui il contributo della forza di Coriolis è talmente piccolo che è praticamente sempre trascurabile. Comunque teoricamente c'è a livello minimo. Poi invece dov'è che si sente? Dove le velocità aumentano notevolmente? Quindi formazione dei tornado o dei cicloni se preferite, in questo caso il suo contributo è decisivo, ma addirittura anche la traiettoria di missili o di proiettili a lunga gittata, cioè nell'ordine dei tre chilometri, deve tenere conto della forza di Coriolis. Chi è Coriolis? Coriolis è, in realtà, Gaspar Gustave de Coriolis è stato un ingegnere francese, attivo nella prima metà del 1800 che studiava tutt'altro rispetto ai multiterrestri e alle conseguenze meteorologiche. Era infatti attivo nell'ottimizzazione dei sistemi idraulici che, diciamo, nella neonata rivoluzione industriale dovevano ottenere conto degli attriti e di altri fenomeni collegati ai fluidi che potessero influenzare il rendimento delle macchine a vapore e soprattutto i loro meccanismi rotanti. Quindi studiando questi movimenti dal punto di vista del corpo in rotazione elaborò un teorema che porta il suo nome a teorema di Coriolis, tra le cui conseguenze c'è quella che oggi chiamiamo forza di Coriolis. È anche considerato uno dei fondatori della meccanica applicata moderna e ha scritto un libro sulla teoria matematica del gioco del biliardo, ma veniamo alla forza di Coriolis. Cosa succede in pratica? Succede che nel globo terrestre la velocità tangenziale di rotazione cambia al cambiare della latitudine, quindi qui la velocità è maggiore che qui o che qui per intendersi, cioè diminuisce con l'andare verso i poli. E perché? Molto semplice, se sono all'equatore, diciamo, vediamo la terra vista dall'alto, in questo modo, questo è l'equatore, questo è il polo nord. Se sono all'equatore anziché in un'altra zona, per esempio, diciamo, usiamo due colori diversi. Diciamo che qua usiamo il rosso che è questo e quindi faccio il giro in questa direzione e qua usiamo il giallo nell'equatore, cioè quindi è questo giro qua. Allora, visto dall'alto è come guardare un disco, ok? Se voi mettete due pezzettini di carta, uno qui e l'altro qui, ovviamente il pezzettino che si trova qui viaggia più lentamente del pezzettino che si trova qui. Perché? Perché entrambi fanno, nello stesso tempo, completano un giro, ma il giro completato all'equatore, quindi il giro giallo, diciamo questo qui, è molto più lungo del giro rosso, evidentemente. Ed essendo la velocità data dal spazio percorso fratto il tempo impiegato, se il tempo rimane lo stesso e lo spazio è maggiore nel caso del giallo, evidentemente la velocità del giallo è maggiore che in quella del rosso. Quindi, detto in soldoni, se sono all'equatore sto viaggiando più velocemente che se non vado verso il polo. Se dunque passo dall'equatore verso nord o verso sud, quindi se faccio un movimento di questo tipo, oppure di questo tipo, quello che succede sarà che la velocità cambia rispetto a quella iniziale, cioè quella che avevo all'inizio, ma se la velocità cambia allora c'è un'accelerazione o una decelerazione, se preferite comunque c'è un'accelerazione oppositiva o negativa, cioè c'è una variazione di velocità sul tempo, come l'abbiamo definito prima l'accelerazione e siccome la forza è data dalla massa per l'accelerazione, se c'è un'accelerazione e c'è un corpo che esegue questo spostamento, evidentemente c'è una forza, proprio questa è la forza di Corioli. Quindi se qui ho la velocità v1 e qui ho la velocità v2 e io mi sposto da v1 verso v2, c'è una variazione delta v di velocità che è data proprio da v2 meno v1, che sarà una decelerazione se vado verso nord e un'accelerazione se vado verso sud. Quindi cosa succede alla mia traiettoria? Dove vado a finire se mi sposto da sud a nord, diciamo dall'equattore verso nord o viceversa? Ovviamente se mi sposto da sud verso nord anziché andare qui, a questo punto quindi come se andassi dritto mi troverò un po' più a destra, cioè verso est, sarò spostato verso est di un certo grado che poi dipende ovviamente dalla velocità a cui vado e dalla latitudine che scelgo. Ma perché verso destra? Se la velocità è diminuita? Perché succede la stessa cosa che succede in macchina, quando sono in macchina e freno, la frenata è contro di me, cioè c'è una decelerazione quindi come se fosse una forza che la macchina esercita verso di me, ma io mi sposto in avanti, già avete fatto caso che quando mi fermo mi sposto in avanti, oppure quando curvo, se curvo a destra il mio corpo si sposta a sinistra eccetera, perché questa cosa? Beh ci sono diciamo due spiegazioni a questo fenomeno, uno è che rimane l'inerzia che avevo, l'inerzia era di una velocità maggiore e quindi io mi troverò in una situazione in cui continuo a spostarmi in un certo senso in quella direzione e poi c'è il principio di azione reazione cioè il terzo principio della dinamica quindi se un corpo A cioè l'auto esercita una forza sul corpo B cioè la persona, il corpo B cioè la persona esercita una forza uguale contraria sulla macchina quindi se la macchina decelera cioè esercita un'accelerazione in questo senso facciamo uno schermino scemo ma semplice se io freno questa è la direzione della frenata e questa è la direzione del mio movimento quindi uguale contraria e la stessa cosa avviene qui è come se passando da giù a su io avessi una decelerazione quindi in teoria dovrei spostarmi verso sinistra ma in realtà appunto per l'azione reazione mi sposto verso destra perché mi rimane l'inerzia della velocità a cui andavo prima e quindi mi troverò più ad est viceversa se scendo da su verso giù ovviamente mi troverò più ad ovest rispetto a dove pensavo di arrivare questo cosa determina per esempio a livello pratico determina che sia un ciclone nell'emisfero nord si muoverà in senso anti orario in quello sud in senso orario qui siamo per esempio nell'emisfero nord questa è la foto di un ciclone che evidentemente gira appunto in senso anti orario proprio per questo motivo qua nei venti ricordiamoci c'è una questione legata anche all'altezza no cioè il vento il ciclone è dato da un'alta pressione quindi la pressione la direzione della velocità del vento va verso il basso e poi curva per formare appunto in senso anti orario in questo in questo modo qui e corrioli vale anche in questo caso perché il cambio di altezza è come un cambio di latitudine in un certo senso nei venti fra l'altro c'è entrambi queste cose perché l'aria si sposta sia dall'alto verso il basso che da nord verso il sud o viceversa quindi ci sono entrambe le componenti e sempre per lo stesso motivo di prima cioè cambiando la distanza dal centro della terra cambia lo spazio percorso quindi se questa è la terra io sono qui ovviamente il raggio rispetto a essere qui è maggiore quindi questo r2 è maggiore di r1 r2 maggiore di r1 esattamente come quando stavo qui r3 r3 è minore di r1 o r2 insomma in questo modo quindi in tutti questi casi c'è un cambiamento di raggio e che vuol dire che c'è un cambiamento di circonferenza e che vuol dire che c'è un cambiamento di spazio percorso ma il tempo di percorrenza è sempre lo stesso quindi riassumendo se io sono all'equatore l'equatore gira in questo senso perché la terra gira intorno al proprio asse ovviamente qua non sto facendo l'inclinazione rispetto all'eclittica ma poco importa per quello di cui stiamo parlando e quindi la sua rotazione mi genera una certa velocità se io mi se io mi sposto in una in un altro parallelo quindi dove evidentemente lo spazio percorso è minore quindi anche la velocità è minore questo movimento dall'equatore verso nord determina uno spostamento verso est dato dalla variazione di velocità che sul tempo ci dà un'accelerazione ma siccome io so che la forza è massa per accelerazione evidentemente sto applicando una forza che in questo caso è detta forza di Coriolis a quanto è uguale la forza di Coriolis? La forza di Coriolis abbiamo detto prima che è 2m omega v da dove viene questa formula? Che cosa sono questi termini? Allora per spiegare al meglio da dove viene questa formula bisognerebbe utilizzare le derivate dato che l'accelerazione è una derivata della velocità e di conseguenza una derivata seconda dello spazio che uniti alla formula del momento angolare del cambio del sistema di riferimento da interno a esterno diciamo così cioè da terrestre a extraterrestre genera appunto questa formula ma c'è anche un altro modo seppur non correttissimo tuttavia valido ai fini della comprensione di quello che sta succedendo ed è ricordarsi che c'è un rapporto quadratico tra la velocità e l'accelerazione quando c'è un moto rotazionale infatti sappiamo che sia la forza centripeta che la forza centrifuga sono uguale a m per v quadro r dove evidentemente r è il raggio di rotazione quindi questa è la mia accelerazione ok perché noi sappiamo che f deve essere uguale a m per a quindi evidentemente c'è un rapporto quadratico tra l'accelerazione e la velocità ma se io mi sposto da una zona a un'altra quindi riprendiamo questo disegno se io mi sposto da una zona all'altra sto aggiungendo un'altra velocità cioè questa è una velocità aggiuntiva diciamo quella qui mi muovo sulla sulla terra o sulla superficie terrestre insomma verso nord adesso stiamo facendo il caso dall'equatore verso nord ma evidentemente è ragionamento identico sia al contrario sia dall'equatore verso sud è semplicemente speculare e quindi se c'è un'altra velocità io devo considerare due velocità la prima è appunto la velocità a cui mi sposto e l'altra sarà la velocità chiamiamola così omega r anzi usiamo la r minuscola omega r cioè c'è il contributo di due velocità che si sommano ma se abbiamo appena detto che per esempio se io prendo la forza centrifuga anche se è una forza apparente peraltro che è uguale ad m per v quadro su r ok evidentemente se al posto di v io do il doppio contributo di due velocità qui avrò v più omega r al quadrato ma se ho v più omega r al quadrato spostiamoci qua questo diventa il quadrato di un binomio il quadrato di un binomio uguale a v quadro più omega quadro r quadro più il doppio prodotto del primo per il secondo quindi due omega r per v questo punto dividiamo per r e vediamo i contributi diciamo così puliti delle varie velocità in particolare quest'ultimo contributo la r si semplifica è proprio 2 omega v è proprio il contributo dell'accelerazione di Coriolis ovvero f di Coriolis uguale m per 2 quindi 2m per omega per v dove omega è la velocità angolare e v è la velocità a quale mi stavo spostando da nord verso sud da sud verso nord e così via grazie a tutti